a atta eccoci qua siamo con il nostro amichetto ho potuto vedere il minacchia si lo so ragazzi voglio fare un pochino il video di in scat si per me ne farlo più bello dai dai guardate qui faccio vedere un po' di più guardate che bello che è sgratte guarda vede la somma che lo difflessa è proprio un vero scogliatto non è finto anche per all'ancolura anche per all'ancolura mi sto prendendo il video se mi fate lo scogliatto non ti ti picchio no all'ancolura questo qua è un vero scogliatto non è non criceto guardate che bello è cinese ragazzi lui si mangia le verdure le carote tutto con utilità lui si mangia le cracke a volte se le cracke lui sa le goba furtivamente guardate 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 teme qualcosa non lo vedete non mi ha leccato teme qualcosa si 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 guardate guardate state amendo qualcosa si 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 ruffiano scatti tu sei ruffiano come fa cos'è un ruffiano lo puoi dire scatti sei un ruffiano sei un ruffiano è vecchio allora che ragazzi che ragazze ho un computer nuovo cioè diciamo ho cambiato delle parti scusa se vuoi fare per il computer il mio computer ragazzi un po' si scatti divertiti intanto si dai facciamo pirata facciamo facciamo dai facciamo carriera facendo un papagallo ci mettiamo lo scogliattolo che ne dici guardate lo scogliattolo stava cominciando a fare carriera come ho detto guardate il mio scogliattolo una volta era di mio fratello cosa stai facendo si era scogliattolo cosa che quando fa così fa ruffiano pensa a qualcosa guarda forse sicuramente pensa a qualcosa pensa a qualcosa sicuramente si 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 pensa a qualcosa ahhh 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 Dio Dio si è riuscita ahhh 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 ora per favore ti puoi togliere non sei un pappagallo madonna madonna aiuto guardatevi guardatevi ahhh 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 cia russi guardatelo nella sua veglia ragazzi guardate qui che bello davvero cosa fai, cosa fai? Pucci, scratch sì, sì ragazzi, lo scuola, lo scuola, è il mio fratello, ma adesso è mio guardate quando stiamo registrando un attimo, non lo manso da 2 minuti e 50 ragazzi, ragazzi, guardate quando guardate ancora lo fa che scratch, pensa a qualcosa ragazzi, perché lui è dentro, gli dice, c'è quello che mi cade sulla schiena, io mi spiego sul letto veramente, tanto qui ragazzi si, aiuto, cosa sta facendo ho paura, ok basta perché a volte lui, lui far ruffiano veramente ragazzi, far ruffiano guardate, adesso è salito su computer se mi salito su, faci guardate, guardate guardate, guardate guardate, guardate, guardate guardate, guardate vai a stelle strisce scratch, se tu salti ti uccido veramente veramente, guardate che bello raga proprio costava 25 euro adesso è salito migliore di costa quanto fai ragazzi mi sa letto sul computer è pazzo il suo scogliattolo adesso era pazzo ma donna mi sembra in rabbia madonna mi sembra di strangolato il suo scogliattolo scogliattolo di cacca cosa sta facendo guardate 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 cavolo dov'è dov'è cavolo 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 se mi scorrego in faccia guardate che miglior sedere tanto ragazzi guardate qui bellissimo voi ragazzi spero di ragazzi spero di continuare come potete vedere ragazzi io purtroppo in un giorno mi impegno l'entrata sotto la scrivania mia mamma da alcuni ho detto c'è una delle caramelle tutto lo scuso tutto dentro la scrivania però più piccolino adesso ragazzi guardate adesso mi devo passare in piedi per forza guardate 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 comincia a salire penserosissimo il testo maria a car un'altra cosa i i la 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 ragazzi alla prossima puntata ciao a tutti saluta scratte fai saluta saluta e saluta la webcam vabbè ciao ciao vi dico ciao iscrivetevi al canale se mi salto ancora sulla posta sera il cucchino e non ci sarei iscrivetevi al canale mettete un bel mi piace ciao a tutti alla prossima e buona a tutti alla prossima